questa è la sigla di novantissimo minuto che io uso come suoneria del telefonino la rai mi ha assunto nel 1970 mi dissero se volevo fare il telecronista non sapevo neanche che cosa fosse la parola telecronista nel 76 sono finalmente arrivato a novantesimo minuto tutti noi che eravamo dediti allo sport nelle varie sedi rai volevamo entrare nel giro di novantesimo minuto perché novantesimo minuto faceva degli ascolti straordinari allora fare 8 milioni 9 milioni di ascoltatori voleva dire entrare in tutte le case d'italia bella partita tutto sommato anche se il milan ha giocato molto meglio la seconda parte del suo incontro certamente l'inter doveva opporsi in maniera più efficace e più effettiva invece abbiamo visto un inter piuttosto scollata e un milan che ha sempre premuto sull'acceleratore novantesimo minuto però aveva delle esigenze molto chiare intanto dovevi stare in un minuto e mezzo anche con le immagini di tutta la partita valenti ci teneva moltissimo a che noi dissimo dei giudizi sui calciatori non dovevano essere giudizi il 6 il 5 il 4 l'8 il 9 no non erano le pagelle erano giudizi sull'operato del calciatore anastasi che aveva giocato bene il primo tempo ed era scomparso nella ripresa ecco questo è un tipo di giudizio che potevamo dare ho fatto novantesimo praticamente per una vita io ho seguito inter e milan poi genoa e sampdoria e il milan e la squadra che mi ha entusiasmato di più era il milan di rocco e con lo stesso rocco andavamo spesso a berci una birra volentieri durante la settimana oltre a rocco avevo rapporti molto amichevoli con boniperti perché boniperti era stato artigliere da montagna quando io ero ufficiale a rivoli boniperti era rivoli io ero a rivoli non era sotto di me ma era nella mia stessa caserma quando c'era novantesimo nei bar si fermavano tutte le attività dal bigliardo alle carte era una corsa sola ad andare in sala a televisione perché novantesimo era il momento clou della domenica novantesimo minuto rappresentato anche un altro importante traguardo quello di mostrare la faccia e il corpo diciamo così del cronista perché sino ad allora raramente i cronisti venivano mostrati sul video mentre novantesimo minuto con l'apparizione iniziale e la chiusura finale mostrava il telecronista mentre svolgeva il suo lavoro novantesimo di oggi è tecnico ha perso quella carica di personalità che avevamo noi oggi si fa tutto parlando di tecnica il calcio di allora era un calcio più poetico io ho fatto il telecronista per una 20 22 anni perché facevo novantesimo ma facevo anche le telecroniche delle partite ti capitava di fare delle telecroniche di cose assai diverse e la preoccupazione era quella di riuscire nel tempo breve che ti avevano dato guarda che domani devi andare a fare la telecronica della corsa nei sacchi ecco di riuscire a scoprire tutto quello che c'era da sapere della corsa nei sacchi una delle telecroniche più particolari che mi sia capitato di fare è stata quella della nomina del cardinale tarcisio bertone a genova non ho aggiunto termini tecnici calcistici soprattutto alla telecronica del cardinale era talmente tanta la mia preoccupazione di sbagliare mi sembrava di camminare sulle uova non vorrevo romperle